La persona non ha ricevuto il bastant, 49 persone, immediatamente, ora che non stanno detectando questa acqua, c'è un'accione, e se è probabilmente un bastant che ora parla, passate ora che non puoi cobrare bastant, ora che la placa con la haia ora, come si usa. Voi sapere che il bastant è 450, flori. Il bastant è più alto, si, dipende se voi non stanno capta per lavorare nel mercato laborale.